Benvenuti alla nuova questione giuridica del mese dello Regio. Oggi parliamo di un tema scottante e di grande attualità, e cioè l'uscita della Gran Bretagna dall'Unione Europea, la cosiddetta Brexit. Per parlare di questo tema abbiamo l'onore di avere con noi il dottor Marcus Varasin, membro dell'ufficio gabinetto del Presidente del Parlamento Europeo, che vive da vicino gli sviluppi della Brexit e potrà quindi fornirci delle informazioni e aggiornamenti. Buongiorno dottor Varasin. Buongiorno. Prima di tutto, come si è arrivati a questa situazione attesa e alla Brexit? Nel 2013 il Premier Ministro britannico, allora David Cameron, aveva promesso di organizzare un referendum se dovesse vincere l'elezione del 2015. Nel 2014 poi, alle elezioni europee, il partito anti-europeo, UKIP Independence Party, era diventato il partito più forte in Gran Bretagna e quando allora nel 2015 Cameroon era stato rieletto, si sentiva obbligato di organizzare il referendum che poi era stato organizzato nel 2016, a giugno, dove una maggioranza dei cittadini britannici, un 52% si è espresso a favore dell'uscita e un po' più del 48% era contrario. Quasi ogni giorno sentiamo delle news sulla Brexit. Qual è lo stato attuale? Il governo britannico, nel 29 marzo del 2017, ha iniziato il processo dell'uscita della Gran Bretagna e dell'Unione Europea. La relazione tra la Gran Bretagna e l'Unione Europea non è stata mai un amore di prima vista. Hanno fatto tre volte una domanda per aderire all'Unione Europea negli anni 60, hanno fatto un referendum in Francia per vedere se i francesi erano d'accordo all'adesione dei britannici, poi la Gran Bretagna ha fatto un primo referendum nel 1975 e poi un secondo nel 2017. Sono stati 40 anni di relazioni difficili tra la Gran Bretagna e l'Unione Europea. Adesso invece siamo nella fase dell'uscita e abbiamo fatto un accordo che dovrebbe essere approvato per poi garantire l'uscita ordinata nel 29 marzo. E cosa si intende per il no deal Brexit e quale ruolo gioca infatti questa data del 29 di marzo? Il 29 marzo è essenziale. No deal sarebbe lo scenario, il worst case scenario, perché significherebbe che la Gran Bretagna lascerebbe l'Unione Europea senza nessun accordo, che creerebbe per il mercato unico un problema enorme, anche per tutte le politiche come l'agricoltura, i trasporti, la politica della pesca, in qualsiasi scenario sarebbe terribile sia per l'economia che per i cittadini. Invece se ci fosse l'accordo, l'accordo approvato, che già abbiamo concordato, ma la Gran Bretagna deve ancora approvarlo, l'uscita sarebbe prevista per il 29 a mezzanotte alle 11 ora a Londra. E quali effetti avrà la Brexit sulla Gran Bretagna e sugli altri stati membri dell'Unione Europea? La Gran Bretagna è un grande paese europeo, è la seconda economia europea dopo la Germania, conta come 19 paesi membri dell'Unione Europea, perciò c'è anche un impatto grande. I tre temi principali che vengono spesso menzionati sono i diritti dei cittadini, devono essere preservati, sia i diritti degli cittadini europei in Gran Bretagna, ma anche quelli dei cittadini britannici sul continente. Il secondo tema importantissimo è la frontiera tra l'Irlanda del Nord e l'Irlanda, là deve essere garantito questo processo di pace che si è installato dagli anni 90. Il terzo tema è il tema finanziario, l'accordo finanziario tra l'Unione Europea e la Gran Bretagna, dove la Gran Bretagna dovrà continuare a dare il suo contributo alla finanziaria europea e dovranno pagare 40 miliardi di Euro nei prossimi anni. Cosa succederà nei prossimi giorni, nelle prossime settimane? Metà marzo è previsto il voto nel Parlamento britannico, o si approva l'accordo organizzato dall'Unione Europea e dalla prima ministra Theresa May, o se viene rifiutato la Gran Bretagna chiederà una proroga per organizzare probabilmente il secondo referendum. Grazie dottor Varassin per l'intervista e le informazioni. La ringrazio. Grazie anche a voi, cari spettatrici e cari spettatori, per il vostro interesse. Speriamo di avervi fornito uno sguardo sugli accadimenti attuali a Bruxelles. Vi ringrazio e vi do appuntamento alla prossima questione giuridica dell'Oreggio. Grazie. 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 Grazie.